Quanta acqua bevi al giorno? Idrati a sufficienza il tuo corpo? Nel video di oggi scoprirai quali sono i benefici di bere acqua nelle giuste quantità e ti suggerirò come calcolare il tuo fabbisogno giornaliero. Ciao, sono Fabio. Sono un personal trainer e alleno uomini e donne che vogliono tornare in forma e hanno poco tempo disponibile, incontrandoli due volte alla settimana per un'ora. Eliminare le scorie attraverso le urine, migliorare la prestazione sportiva, migliorare la qualità della pelle, ridurre la ritenzione idrica e la cellulite, correlando una corretta alimentazione. Sono solo alcuni dei benefici che otterrai idratando il tuo corpo in maniera adeguata. E se ne conosci altri, condividili con noi scrivendolo nei commenti. Il corpo umano di un adulto è composto per circa il 60% da acqua. Immagina su un soggetto di 70 kg, oltre 40 kg saranno rappresentati da acqua. Oggi voglio soffermare l'attenzione sul calcolo del fabbisogno giornaliero di acqua. Questo dato è fortemente correlato alla tua alimentazione. Immagina che ci sono alimenti che contengono circa il 2% di acqua e altri alimenti che ne contengono circa l'80%. Facciamo un esempio. Se banalmente la tua colazione è composta da biscotti secchi e da brioche, devi considerare che sono alimenti quasi totalmente privi di acqua. Si considera tra il 2 e il 10%. Se la tua alimentazione è composta da frutta fresca, considera che stai assumendo degli alimenti composti per l'80% da acqua. Tuttavia, possiamo generalizzare dicendo che un calcolo corretto è moltiplicare il proprio peso corporeo per 30 ml di acqua al giorno. Facciamo un esempio. Se pesi circa 70 kg e moltiplichi per 30, il risultato sarà 2100 ml di acqua, corrispondenti a poco più di 2 litri. Riepilotando brevemente, ti ricordo che l'acqua è l'elemento che compone maggiormente il tuo corpo e per calcolare il fabbisogno di acqua in giornaliero, devi moltiplicare il tuo peso corporeo per 30 e otterrai la quantità in millilitri da assumere ogni giorno. Se vivi o lavori a Catania, contattami e prenota una consulenza gratuita e senza impegno alcuno per valutare insieme i tuoi obiettivi. Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video!